Nuovi percorsi interni all'ospedale di Vaio Per scendere ai reparti al piano terra, utilizzare gli ascensori o le scale che si trovano alla fine del percorso segnalato a pavimento. Per raggiungere i reparti al piani 2 e 3, si usano gli ascensori subito dopo la reception. Per la chiesa o le camere ardenti, seguire il corridoio a destra dopo l'entrata.